Ci siamo. Perfetto, ciao Arcangelo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dicevo che ti trovi informissima. Anche te, sei bellissima. Lo prendo come un complimento. No, no, voglia, sei informissima davvero. Stai facendo il, come si chiama? Remoergometro, tecnicamente, ma più comunemente chiamato vogatore. Che ho sempre voluto provare, non l'ho mai provato, lo vedo in palestra e dico, ah, poi lo faccio. Guarda, è uno sport che poi è, diciamo, l'attrezzo che simula il canotaggio. Molto bello perché fai lavorare tutti i muscoli del corpo e a me serviva proprio un allenamento che mi portasse via al minor tempo possibile dove non dovevo mettere la testa. Perché non hai tempo? Non ho tempo e non ho tempo di stare a pensare alla ripetizione, cinque push-up, quattro trazioni. Devo andare e... Non hai tempo per la nascita di tuo figlio, per il lavoro o per il canale YouTube? Un po' per tutto, in verità. Ovviamente anche la famiglia ha influito tanto con la nascita del buon Elon. Come, sei felice? Sì, felicissimo. Lui è un bimbo. Siamo Elon? Elon. Come Elon Musk, in suo onore. In suo onore, in verità, non proprio, nel senso che Elon Musk, quando aveva 15 anni, ha venduto ad una società un gioco del computer che aveva programmato lui. Ok. Quando io avevo 15 anni, ero andato dai miei genitori dicendo ho un'idea per un gioco di un computer, lo vorrei programmare e loro mi dissero... Te l'hanno mandato a cagare. Esatto. Mi hanno detto, lascia perdere che non sarai mai in grado di programmare, è impossibile. E allora chiamare Elon, mio figlio, è un monito per ricordarmi che quando mi chiederà tra 15 anni qualcosa che io non saprò, sarò io a non saperla. Quindi ti sottolineerà. Esatto. Aiutalo. Che poi solitamente un gestore non si mette nei panni del figlio. Esatto. Esattamente. Ed è quello invece che mi sforzerò di fare io, avendolo chiamato così, proprio per questo aneddoto. E poi in questo podcast chiacchierata parliamo molto spesso di imprenditoria. Certo. Se io oggi sono un imprenditore, soprattutto digitale, è anche grazie a te perché la primissima persona che io ho conosciuto online sei stato tu. Vero, mi ricordo benissimo. E tu pensa che se ti ricordi quando eri stato a dormire a casa mia... Perché raccontiamo. Vai, raccontalo, raccontalo. Io ho aperto il canale YouTube. Non conoscevo nessuno perché viveva in un piccolo paesino in provincia di Napoli. Mi dicevo a contattare gente e mi autoinvito da loro. E la prima persona è stata lui. Lui fa ok, mi dà il numero di cellulare, lo chiamo. Lui mi fa. Ma è un posto dove dormire? Ho detto, ma dov'è che vai a dormire? E Arcangelo appunto mi avevi detto, andrò in un Airbnb, mi cerco un albergo. Gli ho detto, ma vieni a stare a casa mia, scusa, ci mancherebbe. Poi è nata una bella amicizia. Poi vabbè, adesso te sei cresciuto, hai fatto l'agenzia. Ho fatto un bel percorso, ho fatto un bel percorso. Sì, sì, sì. In poco tempo con l'online? Sì, sì, sì. Sono cresciuto tantissimo. Sono passato dal paesino a Milano, poi chissà dove. E se ti ricordi, la sera che abbiamo cenato a casa mia c'era Salvo, c'era il mitico Salvo che adesso... E abbiamo mangiato la carbonara vegana. La carbonara vegana. Che c'è il video. C'è il video, c'è il video. Io ero felicissimo. Sì, sì, sì. No, ci eravamo divertiti. E tu fai mille miliardi di cose. Da l'azienda... Le aziende. Le aziende, giustamente. Perché siete cresciuti. Sì, sì. Il canale YouTube, il padre. Come ti definisci? Ma, guarda, a me piace definirmi un imprenditore diventato YouTuber, no? Perché negli ultimi anni... Hai fatto i percorsi inverso. Esatto. Tantissimi YouTuber poi nel tempo sono diventati imprenditori, no? Io invece ho fatto un po' il percorso contrario. Ovviamente rimango un imprenditore, ma la parte, diciamo, di YouTube che mi ha permesso di esprimere la mia parte creativa è molto importante per me oggi. Ti fa sfogare. Mi fa sfogare. Quindi, se ti dovessi dire cos'è che sono oggi, a me piace. Cioè, quando vado in giro e mi presento alla gente, io dico, io faccio lo YouTuber. Perché poi anche nella mia azienda, oramai sono diventato quello che fa i video della mia azienda, capito? E poi avere un canale YouTube, a volte, ovviamente, non è una Bibbia, però a volte aiuta in tante situazioni. Ti apre tantissime porte, ti fa conoscere tante parti. Noi due ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti con quello. Avere un canale YouTube è veramente un passepartout per tantissime esperienze. Più di tutti gli altri social. Esatto, assolutamente. L'engagement che tu hai e la credibilità, soprattutto, che tu hai con YouTube, non la trovi con nessun altro social. Verissimo. Cioè, tu puoi avere, come nel mio caso, 80.000 iscritti su YouTube ed essere riconosciuto come un professionista della content creation. Se hai due milioni su TikTok, magari nessuno sa nemmeno chi sei, capito? Però poi ci sono TikToker che comunque hanno fatto un bel percorso. Chiaramente, no, no, certo, assolutamente. Anzi, ce ne sono tantissimi che stimo, perché poi hanno aperto anche loro aziende. Certo, certo. Però se dovessi comunque scegliere oggi, non cambierei la scelta di aver… Quanto ha giovato il canale YouTube per le tue aziende? Parecchio. Penso anche i tuoi soci. Sì, sì. Guarda, tra l'altro è divertente questa cosa, perché proprio nel primo anno in cui avevo aperto il mio canale YouTube personale, addirittura c'è stato un momento dove i miei soci mi chiesero di non parlare più di YouTube in azienda, perché era una cosa che era vista male, capito? Dire, Luca fa anche dei video per i cavoli suoi. Mi è capitato anche a me all'inizio. Esatto. Mentre adesso, invece, insomma, tutto quello che YouTube ha portato poi, effettivamente è stato aggiovato anche al fatturato, giusto per andare in concreto. E quindi adesso diciamo… Guarda, abbiamo scoperto, che poi era il ragionamento fatto da me all'inizio, io ho scoperto, tra virgolette, YouTube con Marcello Ascani. Che conosce la tua primissima collaborazione. La primissima collaborazione, ma non solo, è stata la prima volta che nel campo finanziario è stato utilizzato l'influencer marketing. Io contatto Marcello, gli dico, Marcello hai fatto un video dove parli male del trading online, io mi occupo di trading online, voglio farti cambiare idea. Facciamo una collaborazione di un anno, dove ci vediamo una volta al mese, io ti insegno a fare trading, ovviamente tutto spesato, trasferte e tutto quanto, a fine anno rifai il video che hai fatto e mi dici cosa ne pensi. E tiriamo le somme. E tiriamo le somme. Cosa è successo? È arrivata poi la fiera del trading solito che viene fatta a Rimini una volta l'anno e alla fiera del trading la gente cominciava a salutarmi e riconoscermi come l'amico di Marcello Ascani. Allora io ho detto, ma cacchio, io faccio trading da al tempo 15 anni e adesso mi riconoscono come trader amico di Marcello Ascani. Ok, questa cosa dell'influencer marketing funziona, non solo continuerò a farla, ma devo diventare io l'influencer. Tant'è che appunto ho iniziato questo percorso qui, dove ho fatto vedere anche la mia vita, le mie frequentazioni, le cose che vado a fare con i miei amici, che trasformo poi in un vlog, i miei interessi che possono essere la salute e il benessere piuttosto che chat GPT. Quando arriva io sono stato il primo in Italia a parlare di Mid Journey. Tra l'altro hai fatto un video fighissimo sulla ragazza virtuale. Esatto, la fidanzata virtuale, anche quella l'ho cancellata adesso perché cominciava a diventare noiosa come una fidanzata vera, quindi non ho rinnovato l'abbonamento. Però diciamo che nel mio lavoro cerco sempre nuovi trend, nuove cose e quello che faccio poi è non solo trattarli dal punto di vista finanziario, cosa che faccio per la mia azienda, ma appunto dal punto di vista un po' più pop, un pochettino più, diciamo, così da intrattenimento, no? Quindi cerchi qualcosa da poter sfruttare per raccontarla sul canale. Ma nemmeno lo cerco perché di base io ho la fortuna di leggere tanto. Cioè io la mattina vado in ufficio e per due ore leggo notizie. Io sono abbonato a tutti, io ho proprio un elenco di link, apro, leggo, apro, leggo. Quando c'è qualcosa che mi intrippa, tipo ho letto appunto l'articolo della fidanzata virtuale, ho detto fammi vedere che cos'è, quindi vado a vedere che azienda c'è dietro. Per esempio, in questo momento… Ma lo fai poi per una questione di investimento? Di tutto. Ti faccio un esempio, proprio in questo momento c'è un farmaco che sta spopolando nel mondo, che è un farmaco della Novo Nordisk che fa dimagrire, ok? Funziona? Funziona, perché poi ho cercato anche persone che lo stanno assumendo, mi sono fatto raccontare come funziona, mi sono fatto raccontare la loro esperienza e tutto. Ho queste due anime, sono andato ad analizzare l'azienda, i bilanci, per vedere se era da comprare per fare soldi in borsa e poi c'è tutta la parte più pop dove chiaramente sto iniziando a preparare contenuti seguendo una persona che sta prendendo… Ah, stai facendo un video? Capito? Sì, sì, certo, ho capito. Quindi ho queste due anime, una di intrattenimento, intrattenitore e una poi invece di investitore. Con quale vai più d'accordo? Ma in verità quello che appunto poi per rispondere a tua domanda più vado avanti e più si uniscono queste due anime perché all'inizio erano state separate proprio perché i miei soci non volevano nemmeno sentirne parlare. Adesso anche loro si sono accorti che la parte di intrattenimento, la parte di curiosità, la parte di un po' personaggio se vogliamo fa interessare le persone poi anche alle attività, quelle lavorative. Però non ne parli spessissimo della tua azienda sul canale? No, no, no. Avrei fatto qualche video agli uffici? No, 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 poco, poco, pochissimo. È una scelta o… Ma in verità… Poi proprio per uscire dal lavoro e sfogare… Il mio canale YouTube nasce proprio come mio hobby e addirittura all'inizio mi rifiutavo di guadagnare soldi dal mio canale YouTube. Poi ho fatto pace con me stesso, ho capito che a me piace fare soldi e quindi… A chi è che non pianoccia? No, ma c'è chi non gliene frega niente. Io ho capito che io riesco a far funzionare bene le cose quando nell'equazione c'è anche il denaro. Punto. Quindi… Tra l'altro una volta mi hai raccontato una cosa fighissima che hai fatto proprio per fare pace con il denaro. Avevi questo trauma. Ce lo vuoi raccontare? Del nonno? Quale? Che hai andato a fare un evento che ti ha aiutato a sbloccare questa… Ah sì, cacchio, sì, assolutamente. Sono stato… Se vuoi… Allora, no, no, voglio, te lo racconto. È super interessante per me. Te lo racconto perché è molto interessante. A un certo punto c'è stato Amazon, io sono grande cliente di Amazon, c'è stato Amazon che ha cominciato a consigliarmi un libro che si chiama Biologia delle credenze di Bruce Lipton. Questo libro, facendo un mega riassunto, ti spiega come sostanzialmente il mondo, quello che ci capita, qualsiasi cosa, è in qualche modo influenzabile. Parla di epigenetica, questo libro, ovvero tutto quello che sta sopra la genetica. Per dire, io ingrasso perché i miei genitori erano grassi e quindi di genetica sono grasso. Questo libro ti spiega che non è così, è una questione di abitudini. Quindi tu probabilmente sei portato a ingrassare perché i tuoi genitori erano grassi e quindi ti hanno tramandato le abitudini. Non ti hanno tramandato il gene dell'ingrassare. Capito? Insomma, sta di fatto che spiegando tutte queste cose a un certo punto arriva alla fine del libro e dice se volete controllare tutte queste cose qui che però arrivano dalla testa, parla di subconscio, esatto, ci sono varie tecniche tra cui questa che si chiama Psychei. Subito sono andato a cercare... Hai già l'azienda? Beh, sì, a voglia. Sì, sì, sì. Beh, eravamo molto più piccoli rispetto adesso. Si parla di una decina d'anni fa questo aneddoto qua. Insomma, vado a cercare cos'è Psychei. Vedo che è questa tecnica, sostanzialmente questa cosa per comunicare, per riprogrammare il subconscio. Vado a fare un corso di tre giorni a Bassano del Grappa, tra l'altro, Città Magnifica, e mi si apre un mondo. Cioè, perché mi insegnano proprio... A superare queste abitudini. Esatto, proprio a riprogrammare, a capire qual è la tua abitudine, la tua convinzione, la tua credenza limitante ed esattamente come si fa con i software, con le applicazioni oggi, cancellare quella vecchia e mettere quella nuova. E tu avevi un limite sul denaro? Io che poi ho scoperto inconsciamente arrivava da mio nonno che quando ero piccolino e iniziavo a smanettare col computer mi diceva, siccome lui era un tipo molto pratico, faceva il falegname, veniva lì, mi guardava e da lontano mi diceva, non si fa così a fare i soldi. In dialetto milanese diceva, se fanno in scia fai danè, che vuol dire appunto non si fa così a fare i soldi. Ovviamente non... Io conosco il dialetto napoletano. Esatto, esatto. E quindi è stato... Poi posso farti la traduzione in napoletano. Com'è? Non si fanno così di sorta. Ecco, vedi, è più o meno, dai. Ci sia, ci capisci. È intuibile. E quindi mi aveva aiutato molto e da lì devo dire che capire appunto che tante volte e tantissime persone sono limitati soprattutto sulla questione denaro da delle credenze che arrivano dalla famiglia mi ha proprio liberato un po' le ali. Anch'io ho dovuto fare un lavoro intenso proprio su questo aspetto. Comunque poi le famiglie ti inculcano un concetto sul denaro, sul guadagno, sul come, sul quando. Tu facci caso, 90% delle volte in cui si va a cena con qualcuno, quando arriva il momento del conto c'è sempre imbarazzo. Perché? Perché c'è imbarazzo a parlare di denaro. C'è proprio... Ed è un errore incredibile. Cioè, per dire, anche se tu... Facci caso, vai a fare... Vai dal fisioterapista. Sì. Arrivi al momento che devi pagarlo si vergogna lui ad accettare il denaro, capito? Se il denaro è energia, io credo che sia energia, se tu ti vergogni nel momento in cui lo accetti, cioè non arriva, capito, il denaro. Quindi devi far pace proprio con queste idee, capire che tu hai fatto un lavoro, l'hai fatto bene, il denaro te lo meriti, anzi, probabilmente te ne meriti di più, devi amare il denaro, capito? Quindi... Ma non amare in maniera morboso. Non deve essere un'ossessiva, non deve essere un'ossessione. Esatto, cioè, no, devi capire che è esattamente come l'aria che respiriamo, che è come l'energia elettrica per far andare le luci, cioè, è un... Ne abbiamo bisogno. Cioè, capito? Altrimenti non si mangia. Esatto, esattamente. Poi c'è chi ne è più interessato, perché vuole fare magari determinate cose, c'è chi invece preferisce stare in campeggio, l'elettricità non gli serve, va bene. Beato lui, cioè... Ritorniamo a parlare dell'azienda. Yes. Come è nata Investire.biz? Ne hai parlato in tantissimi video, hai fatto influencer marketing, ma la storia di come è nata? Sì. Allora, intanto Investire.biz è solamente uno dei siti del gruppo, abbiamo diverse attività, però diciamo che l'attività principale è stato, esatto, è stato proprio uno dei, diciamo, il primo sito del gruppo. Succede che io ho sempre fatto trading, proprio come attività mia principale, ho sempre fatto quello. Succede che a un certo punto un broker vede, appunto, i risultati miei e dei miei colleghi, che sono tuttora i miei soci, e dice, ma ragazzi, siete bravi, siete giovani, perché non spiegate ai nostri clienti negli incontri che organizziamo per loro cosa fate? Vi paghiamo. E siccome essere pagati senza rischiare niente è bello, è conveniente, a differenza del trading, dove tu ogni volta che fai un click comunque rischi di perdere o di guadagnare, abbiamo capito che c'era un forte vuoto nell'ambito formativo, ma qui stiamo parlando veramente di tanti anni fa, di 12-13 anni fa, c'era un vuoto formativo proprio in campo del trading. In Italia. In Italia, chiaramente, l'abbiamo sempre fatto tutto in italiano, e quindi abbiamo visto che c'era spazio di fare bene, abbiamo iniziato a fare i corsi di trading, che sono sempre piaciuti, e tutt'oggi sono veramente tantissime le persone che almeno all'inizio hanno iniziato con un nostro contenuto. Infatti io per ridere dico sempre, c'è chi dice che ha iniziato a fare trading con un mio video, e chi mente, capito? Qui c'è un po' di ego qui. Sì, sì, no, assolutamente. Cacchio, siamo stati veramente tra i primissimi in Italia. Ma sai, era semplicemente la nostra passione. Qui è un 12-13 anni fa, quindi insomma... Esatto, sì, sì, tanto tanto tempo fa. Quindi i social erano ancora lontanissimi. Adesso non mi ricordo quando è nato Facebook, ma fai conto, il mio primo video YouTube, è di 12 anni fa. Ma sul canale Luca Di Scacciati? No, su un canale che si chiama Teletrading, figurati. Non ho più le password di quel canale. Ma c'è il video? Sì, sì, c'è, lo trovi. E ci sei tu che parli? Sì, sì, se tu metti Luca Di Scacciati, analisi fondamentale, Teletrading, trovi io che parlo di PE. Teletrading era il canale che tu... Il nome del canale, si chiamava Teletrading. Quindi avevi già strizzato l'occhio al video? Sì, 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 assolutamente. E mi ricordo, c'era ancora a casa la fotocamera della Sony con cui... Non fotocamera, proprio una di quelle... Quelle lì con lo schermino. Sì, sì, sì. E fa ridere tantissimo, perché non conosco tanti... Cioè, per dire, anche quando usciamo tra YouTuber, eccetera, uno dice, eh, cacchio, io sono sette anni che faccio video. Io, ah, sette anni, guarda qua. E flexi la data. E flexo la data. Anche perché non posso più cancellarlo quel video, perché non ho più le password di quel canale. Lo cancelleresti? No, 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 assolutamente. Però, cioè, è lì, non so, fin quando durerà, finché ci sarà YouTube. E poi? L'azienda è cresciuta. Poi l'azienda è cresciuta, perché chiaramente negli anni comincio a vedere le opportunità che arrivano. Quindi, appunto, ci siamo trasferiti, appunto, in Svizzera. Quindi è nata in Italia, poi vi siete trasferiti in Svizzera. Allora, quando eravamo in Italia, ognuno era partita IVA. Ok. Poi ci siamo trasferiti in Svizzera, abbiamo strutturato lì tutta l'azienda. Poi, chiaramente, è nata tutta la parte editoriale. Perché? Il blog, intendi. Esatto. Perché non solo, appunto, c'era una lacuna dal punto di vista della formazione, ma poi sono arrivate, per dire, anche le banche, a chiedere, ma perché non... Vi piace questo prodotto con cui stiamo uscendo? Sì, no. Ah, sì, vi piace. Perché non fate un articolo su questo prodotto. E quindi, poi, appunto, è arrivata tutta la parte editoriale. Poi, negli ultimi due, tre anni, abbiamo acquisito un marchio famosissimo del mondo della finanza italiana che è Borsa e Finanza, che era un quotidiano, era una rivista settimanale o quotidiana, non ricordo, che andava in edicola. L'avete comprato. Abbiamo comprato il marchio ed è un sito web. È un SRL italiana oggi, questa Borsa e Finanza SRL. Gestita dalla vostra società? Chiaramente, la capogruppo, gli azionisti, siano sempre noi, però abbiamo aperto un'azienda anche in Italia proprio per gestire questo sito. Quanti dipendenti avete in Italia? Ma no, per adesso uno, perché è stata aperta proprio da pochissimo, quindi è proprio recentissima. Fresca. Freschissima. Fresca di stampa. Da qualche mese. Però lì c'è tutta la parte editoriale. Per dire, siccome Investire.biz ha un animo molto trading, tante realtà bancarie che magari hanno la... che si occupano di gestione proprio degli asset, delle persone, quindi proprio di fondi di investimento, eccetera, non vedevano di buon occhio i loro articoli su un sito dove si parlava tanto di trading. Quindi, insomma, abbiamo trovato questo veicolo, appunto, che è un veicolo molto più istituzionale dove invece le banche, eccetera, hanno proprio piacere a far pubblicare lì le interviste ai loro gestori e tutte queste persone del mondo più istituzionale. Come si fa a gestire un'azienda che poi è diventata così grande? Beh, non è così grande. In tutto siamo 24 persone. Gestisci 24 persone, comunque. Guarda, quali sono le mosse, i consigli che puoi dare? Ti dico gli errori che abbiamo fatto, così chi ci ascolta può eventualmente prendere spunto. Mai cercare di risparmiare sui collaboratori, perché se prendi qualcuno che costa poco, tendenzialmente perché vale poco. Ok. Quindi, prendere sempre quello che costa di più perché è quello che vale di più e mai fare l'errore appunto di dire prendo uno che costa poco e gli insegno. Nella mia esperienza, se avessimo capito prima che bisognava prendere quelli già bravi per fare in modo che fossero loro a insegnare a noi, probabilmente... Mi sento colpito da questo consiglio. Capito? Probabilmente saremo dieci volte più grandi oggi. Invece siamo sempre stati un pochettino che credo che sia un po' un problema che hanno tutte le aziende italiane. Ce l'abbiamo un po' nella testa quella io sono il capo, si fa come dico io, nel subconscio sempre abbiamo un pochettino questo programma che gira. Però questa cosa qui che adesso invece l'abbiamo capita, noi tendenzialmente abbiamo solo gente che prende bene perché è gente che deve venire da noi e risolvere problemi e insegnarci qualcosa. Cioè se io lavoro con qualcuno e mi dice quando siamo in riunione no, guarda Luca, ti stai sbagliando, facciamo come dico io perché lo so, quello oggi sono contento di sentirmelo dire, capito? Ti fa invecchiare meno. No, ma sono contento perché finalmente vuol dire che c'è qualcuno che porta del know-how in azienda, altrimenti se tu porti dentro gente e devi insegnare tu a loro, non puoi crescere più di tanto. Tra l'altro ho visto un po' di storie in un periodo estivo in cui ti lamentavi dei curriculum che ricevevi, delle candidature che ricevevi. Sì, quello è un punto dolente perché... Ci sono un sacco di opportunità. Sì, le opportunità ce ne sono tante e dico purtroppo poi nasce sempre un po' di polemica quando si apre questo discorso qui perché tanti magari si sentono toccati nel vivo e c'è qualcuno magari anche che si offende ed è un peccato perché è veramente se uno parte e ha le idee chiare cioè è molto meglio far vedere già qualcosa piuttosto che il curriculum, no? Cioè per dire che poi non vuol dire andare da un perfetto sconosciuto e regalargli delle idee o dargli qualcosa, semplicemente se arriva, cioè a meno che uno sta cercando una figura molto molto particolare ma se come oggi ci sono tante persone che magari sono capaci di fare tante piccole cose e hanno un comune denominatore che è la loro passione il curriculum oggettivamente non ti fa esprimere al massimo quello che sei, no? Ci sono dei dati e basta. Capito? Ci sono dei dati ti faccio un esempio come probabilmente succede anche a te giornalmente ti scrivono ragazzi molto giovani che si propongono per farti video, montarti video, farti reel, queste cose qua, no? Ovviamente nel momento in cui ricevi una mail al giorno cominci a non calcolarli più chiaramente perché? Perché ti ha saturato, ok? Cos'è successo per dire con la persona che mi sta aiutando in questo momento con i contenuti? Mi ha mandato un video già editato già editato con il suo stile ma un mio video capito? Non mi ha mandato quello che ha fatto per un altro per farmi vedere che è capace e che è bravo. Mi ha fatto una cosa personalizzata che ha tirato la mia attenzione e ha detto cacchio questo qui è bravo sentiamoci cosa è successo? Che ci siamo sentiti gli ho detto mi piaci comincia a fare questo lavoro per il mio canale personale dopo un mese cosa succede? In azienda se ne va il montatore cosa fai? Cioè prendi quello che c'hai lì che sai che è bravo che hai già testato e tutto quanto e oggi il 90% dei miei collaboratori in vari ambiti dell'azienda sono così sono persone che si sono fatte avanti cioè il nostro grafico oggi è la persona che tre anni fa mi disse Luca le tue copertine fanno cagare te le faccio io guarda che bella questa copertina adesso tra l'altro te l'ho scroccato forse può essere poi ci si condivide ovviamente perché se uno è bravo ti racconto anche una storia simile anche io faccio spesso mille storie sul cerchiamo questo cerchiamo un copywriter cerchiamo solitamente arrivano candidature che cestini di tutto arriva di tutto purtroppo per fortuna le cestini così a caso io avevo inviato una mail nella mia newsletter sotto la newsletter c'era un indirizzo per legge in Italia devi mettere l'indirizzo ok questo copywriter non mi ha inviato una mail ha preso l'indirizzo mi ha inviato un pacco pieno di casi studio che lui aveva analizzato e modificato sulla nostra azienda perfetto dopo due era assunto assolutamente adesso è cresciuto con noi ha fatto un percorso assolutamente parte della nostra famiglia infatti quello ha dimostrato di essere bravo esatto ma soprattutto quello che io lotto per far capire le persone dicono ma a me tanti mi dicono perché di questo argomento ne ho parlato anche di recenti in un video ma perché dovrei darti un'idea cioè prima mi paghi e poi io ti do l'idea io dico ragazzi guardate che gli imprenditori sono persone intelligenti non sono stupidi non te la ruba l'idea un imprenditore capito se tu arrivi con una bella idea l'imprenditore non te la ruba l'imprenditore dice questo è una buona risolve i problemi esatto questa è una buona persona arriva con un'idea vieni salta in barca e cominciamo a rimare assieme capito che è un po' il concetto simile di quando mi hai ospitato a casa tua ma assolutamente infatti io quando vedo una persona che fa le cose con passione sono io il primo lo fa per dire con te è successo questa cosa che poi è scaturita in una bella amicizia da tanto tempo 5 anni esatto per esempio con Frank Saccardi che è un bravissimo videomaker regista e adesso producer cosa è successo io sono andato al podcast di Leonardo De Carli lui era il regista finito il podcast siamo stati a chiacchierare gli ho detto ma tu Frank cosa vuoi fare da grande a me piacerebbe fare il produttore di spot televisivi tac vai fai quello di investire punto biz l'ha fatto ha fatto un lavoro incredibile ha capito che quello è il lavoro che vuole fare da un professionista storico c'è capito e io non è che l'ho fatto perché dico oh che bravo minchia gli do un'opportunità mi sento hai visto l'X Factor io ho visto che era capace e mi sono portato a casa a quattro spiccioli un imprenditore a quattro spiccioli mi porto a casa uno spot che tra due anni Frank farà pagare non mille euro ma probabilmente centomila probabile capito e allora cioè capito lui è contento che poi l'ha anche detto in un video ho capito grazie a questo spot qua che voglio fare questo perché io ho capito che non voglio fare solo il regista voglio fare quello che si occupa di tutto e quindi io ovviamente sono contento che ha avuto l'opportunità di capire cosa farne la vita che è la cosa però tu hai un po' il talento di scoprire i talenti sì sì io sono uno scouting a me piace ma molti di quelli online poi li hai scoperti tu oggi sì 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 ma ti dico è per dire adesso mi viene in mente Giovanni Fois la prima collaborazione che abbiamo fatto lui aveva 8000 iscritti capito e poi ha fatto un bel percorso madonna è uno dei principali tu sei molto attento a notare questi aspetti delle persone sì sì e penso sia anche la causa del tuo successo eh beh aiuta perché comunque poi anche per dire anche in azienda i ragazzi che abbiamo adesso per dire c'è Vincenzo che è un ragazzo che assieme a Riccardo Zago che tu conosci perché sei stato a Malta quante volte sei stato a Malta a voi un bel po' esatto tra l'altro mi piace tantissimo esatto esatto anche se vado lì per vacanza passo da Zago esatto assieme a Zago c'è appunto Vincenzo anche Cristian che sono veramente bravi e e sono persone che per esempio eh ho conosciuto proprio per nello specifico nello specifico alla gara di trading cioè io ho organizzato una gara di trading e nei primi dieci non Zago no no Zago l'ho conosciuto già tanto tempo fa ormai lui con noi da tanti anni eh Vincenzo e Cristian li ho conosciuti perché sono tra i primi dieci classificati della gara di trading hai visto il talento capito e li hai carpiti eh no no ma infatti loro avevano voglia di fare un'esperienza all'estero poi magari non staranno con noi tutta la vita io spero di sì perché comunque si sta bene da noi però vengo anch'io beh no a te costi troppo però è figo poi tu sei stato tante volte da noi l'ambiente è bello si sta bene poi a me Malta piace tantissimo io sono un lupo di mare esatto quindi mi piace moltissimo Malta infatti Zago io lo dico sempre ti invidio che sei qui tranquillo c'è il mare vista mare bellissimi uffici belli tu preferisci Svizzera o Malta Svizzera Svizzera sei più da montagna io il mare l'acqua non è però un periodo forse post pandemia eri più affascinato dall'idea di andare a Malta ma non lo so avevo l'idea di magari quando il bimbo iniziava a fare le scuole di andare lì un paio d'anni per fargli imparare l'inglese però in verità poi perché nel cantone dove sei si studia in italiano sì sì certo il cantone italiano il ticino si parla in italiano però adesso nonostante abbia nove mesi gli abbiamo già preso la tata che gli parla in inglese perché è americana quindi è obiettivo prima parola in inglese vediamo se ce la facciamo dead infatti la tata gli dice sempre dead is back è figo vediamo è bello è bello così perché gli dico sempre io vorrei che imparasse l'inglese non come lo sappiamo noi della nostra generazione che sembriamo i mafiosi dei film americani weee how are you io sto facendo un corso me lo dico il tuo accento è pessimo è difficile una volta che impre ce l'hai possiamo giusto andare con un accento super napoletano io quindi ti lascio immaginare possiamo giusto andare a fare i lavapiatti nelle cucine in inglese quando capita col con un cliente in inglese è sempre un po' imbarazzante capito non lo parli però c'è sempre quella spesso si sente che siamo italiani da una parte è anche un plus va bene aiuta però sai allora io mi son detto cacchio ma se io avessi saputo veramente bene l'inglese oggi farei magari contenuti in inglese così avrei tutte delle opportunità anche a livello aziendale sarebbe esatto noi ogni volta che mettiamo il becco fuori dalla lingua italiana comunque abbiamo problemi non ce n'è a me capita di chiudere accordi con aziende estere magari anche dall'America o non so dal sud America poi parlano inglese c'è sempre un po' quel limite c'è sempre c'è sempre il limite infatti uno dei consigli che io tendo a dare sempre è proprio quello impara l'inglese da piccolo subito non crearti altre ambizioni parti dall'inglese e poi e poi fai quello che vuoi capito ma anche i corsi di formazione se tu compri un corso dall'America dove sono decisamente più avanti di noi hai una marcia in più qui in Italia si si no a voglia a voglia beh nel mondo dell'info business comunque hanno fatto scuola tutti quelli che hanno preso banalmente le cose dall'America le hanno tradotte in italiano ma anche i nuovi trend arrivano da lì si infatti sono miliardi ogni anno e saperli sfruttare poi come dici tu tradurli in italiano si 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 un vantaggio poi ci metti del tuo e tutto quanto però chiaramente fa tanto si 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 tra l'altro tu stai facendo l'esame per diventare svizzera no l'ho già fatto ok praticamente in svizzera funziona che devi risiedere in svizzera almeno dieci anni tu sei da da dodici o tredici fare almeno quattro o cinque anni nello stesso comune ok quindi io sono a Chiasso da più di sei anni prima dove eri? prima Lugano ok poi ci siamo spostati a Chiasso più bella però Lugano Lugano è molto più bella sì 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 assolutamente però non c'è salvo eh sai il caffè in Italia è sempre un plus poterlo andare a bere tutti i giorni dopo pranzo e una volta che hai questi requisiti se hai sempre pagato le tasse non hai ammazzato nessuno insomma sei una brava persona non l'hai fatto no ancora no puoi iscriverti al corso ok al corso appunto per stranieri una volta finito questo corso puoi fare l'esame se passi l'esame è orale o è scritto è scritto se passi l'esame puoi presentare la pratica una volta che presenti la pratica ti fanno un'intervista nel comune in italiano in italiano chiaramente e se passi quest'intervista la pratica va al cantone e poi alla confederazione e sei svizzero ora? no io al momento non ancora perché la mia pratica dal comune è passata in cantone quindi ho l'attinenza comunale che vuol dire che sono cittadino di Chiasso però ancora non sono svizzero e qual è il plus di essere svizzero? ma in verità plus non ce ne sono particolari perché tu se lavori in svizzera anche da straniero hai tutti i diritti il plus è che puoi partecipare all'attività politica quindi puoi votare eccetera puoi far parte cioè puoi appunto volendo anche entrare in politica non mi interessa mentre nella politica ma potrò votare esatto potrò votare potrò appunto votare il referendum che ce ne sono diversi perché la appunto la la politica lì è insomma i cittadini decidono praticamente su tutto è una scelta che hai fatto anche per tuo figlio penso ma in verità no nel senso che cioè oggettivamente noi siamo italiani quindi il nostro passaporto è assolutamente un passaporto potente di valore quindi in verità no semplicemente perché la Svizzera è stato il primo posto dove mi sono sentito veramente a casa mi trovo bene quando arrivo in Italia i miei amici mi chiamano lo Svizzero perché sono diventato un po' puntiglioso un pochettino precisino se uno butta la carta per terra io veramente lo insulto e quindi mi sento un pochettino Svizzero e quindi ho detto beh a questo punto voglio esserlo poi ripeto veramente non vedo dei vantaggi materiali a essere Svizzero quindi una velleità sì cioè appunto ci tengo perché vivo in Svizzera mi piace mi sento bene nel posto in cui vivo voglio anche decidere e dire la mia sul referendum del nucleare ecco ok io non so se apprezzo la Svizzera esteticamente o meno ogni tanto penso sicuramente voglio andare via anche da Milano voglio vivere altre esperienze valuto la Svizzera il Portogallo Malta ci sono mille posti che mi affacciano intanto dico ma la Svizzera può piacermi non può piacermi guarda sono sempre a me piace a me piace molto poi mi piace anche andare in vacanza cioè dico quindi secondo me io ho trovato il posto dove vivere dove far crescere mio figlio la famiglia e poi mi piacerebbe andare in vacanza non so quattro volte l'anno in posti diversi oppure dire dai per sei mesi andiamo a vivere a Cadice così così capito vediamo vediamo per esempio Milano non è una di quelle città che vieni e dici ci passo tutta la mia vita no io a Milano ci sono nato ma si milanese si si nato a Milano all'ospedale Indiguarda ma con genitori milanesi eh no provincia di Como sono però mia mamma siccome faceva la vigilatrice di infanzia quindi curava i bambini nelle nelle non mi ricordo insomma dove mettono i bambini che devono nelle cule si nelle come si chiamano non mi ricordo mi ucciderà quando vedrà questo video guarda tutti i tuoi video no però magari gli cavi ogni tanto guarda quelli che gli mandano le sue amiche infatti mi dice ma mi hanno detto che hai detto così vabbè comunque nelle incubatrici ok nelle incubatrici eh aveva appunto questa dottoressa che stimava molto che faceva l'ostetrica al Niguarda e quindi noi siamo nati lì io noi dico noi perché io e mio fratello e non lo sto usando il plurale ma è status che sei così grande no 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 appunto io e mio fratello io da napoletano invece Milano mi piace mi ha dato tanto però non mi ci rivedo non è la città secondo me dove io costruirò la mia vita ogni tanto penso a dove andare perché poi dico sempre non sono un albero non ho le radici non ho le gambe voglio sperimentare voglio conoscere e tu vorresti tornare a Napoli? bella domanda credo di no ok credo di no credo di voler vivere in tanti posti ma come se Napoli l'avessi vissuta non benissimo ovviamente contarti sempre tanto però non mi ci rivedo più sai che anche Vincenzo che questo ragazzo che lavora con me che anche lui è di Napoli dice bene torno a Pasqua e Natale ma poi preferisco vivere altrove come tu sei diventato svizzero io sono diventato un po' più milanese un po' più milanese sì sì a volte quando vado giù vi do tante cose che vorrei mettere in ordine che quindi non mi ci rivedo più proiettato a Napoli poi è una città che amo bellissima le vacanze sono bellissime da andare magica la costiera tu hai vissuto la costiera è uno dei posti più belli al mondo più belli al mondo Napoli è una città magica poi magica secondo me fin tanto che appunto vai e fai il turista magari con gli amici da vivere poi da vivere poi secondo me è tosta così come ho vissuto a Roma non ci rivivrei più a Roma sì sì è una bellissima città ha tanti posti storici ha tanti monumenti però se mi devo proiettare in una città come Roma per esempio che è molto disorganizzata ti dico di no certo cerco altro voglio un po' più vedere posti diversi voglio sperimentare cibi nuovi certo sono un po' curioso io del mondo giusto quindi mi faccio delle domande tra cui anche la Svizzera è un posto che potrebbe piacermi probabilmente no non sono da montagna però tieni presente che poi appunto noi in Canton Ticino abbiamo la grande fortuna di avere anche vicina Milano cioè io questa mattina sono arrivato con mezz'ora di treno a mezz'ora capito è proprio è comodissimo è comodissimo per me questo sarebbe comodissimo cioè fai conto che io sono partito alle 7.31 alle 8.10 ero sotto il Duomo capito bellissimo alla sera se veniamo a cena io e la Emi in macchina cioè possiamo tranquillamente arrivare con 35-40 minuti di macchina cioè visto che siamo qui che parliamo di Svizzera in Prenditoria come funziona poi aprire un'azienda in Svizzera? ma guarda in verità è molto semplice e adesso avendo avuto anche l'esperienza di avere appena aperto l'SRL in Italia è tutto molto più semplice in Svizzera aprire in Svizzera? assolutamente sì cioè è tutto meno complicato io ho fatto una trafila per aprire l'SRL cioè per dire adesso ho scoperto non me ne occupo io perché appunto io essendo azionista della società che ho aperto per fortuna non mi occupo io ma ho visto passare una cosa come 15 email per i buoni pasto cioè in Svizzera funziona che se io vado a mangiare con un cliente prendo lo scontrino lo metto lì e il costo viene messo a costo nel bilancio basta qua madonna santa devi fare la fattura e poi ci sono i buoni pasto che puoi però richiedere fino a tot poi però c'è la jolly card ma di quelle cose di fare mille miliardi di cose per fare una cosa semplice capito e quindi dico la verità da questo punto di vista si sta benissimo non è chiaramente si va dal commercialista e tutto quanto però è tutto molto snello diciamo non è per niente complicato chiaramente c'è bisogna viverci in Svizzera se vuoi essere direttore della tua azienda ammetto che anche l'aspetto imprenditoriale quindi avere una società mi spinge a fare delle valutazioni giustamente in Italia è molto complicato ci sono mille passaggi mille cose uno ci pensa noi lavorando online abbiamo la possibilità di lavorare ovunque e quindi sono domande che ti puni poi però c'è anche tanti pregi l'Italia assolutamente sì comunque sai rimane un paese con una popolazione comunque mediamente ricca è la nostra si parla italiano è la nostra lingua madre quindi qui non abbiamo delle barriere linguistiche è bellissimo cioè comunque io quando vengo a Milano ah cioè penso che quando sei stato in Costiera ti sei sì no infatti l'Italia spacca non ce n'è infatti è perfetta per eventualmente tornare cioè appunto vivi in Svizzera per dire frequenti ogni tanto l'Italia le vacanze perfette e poi magari chissà un giorno per ritirarsi al mare in pensione perfetta quando poi trovi diciamo la quintessenza anche perché sul patrimonio non si pagano tasse cosa che in Svizzera si paga ah come funziona niente c'è una tassa che si chiama sostanza quindi se tu hai non so un milione di euro in banca paghi una piccola percentuale stiamo parlando comunque dello zero virgola qualcosa però in Italia non c'è quindi su grossi patrimoni ha senso ha molto senso capito l'Italia per uno che ha fatto i soldi all'estero e si vuole ritirare è perfetta uno che ha la passione del vino che si compra il casale in Toscana con le vigne è la morte sua uno dei miei sogni è sempre stato quello che quando andrò in pensione di andare in costiera a Malfitana e vivere lì con la milletta e guardi il mare io penso che abbiamo toccato tutti gli argomenti anche quelli più delicati che non dovevamo toccare no no perché tanto ci siamo detti tantissime cose super interessanti mi ha fatto super piacere anche a me averti qui per l'ennesima volta abbiamo fatto sempre piacere mi mancava in un format un po' più lungo bene grazie mille dell'invito grazie a te grazie a te